era ancora in piedi davanti all'armadio a specchio con il labbro di sopra imperlato di sudore quando sentì un rumore di passi in negozio poi nel bugigattolo in estate chiudeva di rado la porta esterna perché la casa che si sviluppava tutta in profondità non era molto arieggiata restò immobile aspettando di udire la voce di un cliente gridare c'è qualcuno ma i passi avanzarono verso la cucina dove il visitatore indugiò prima di tornare ai piedi della scala erano passi di uomo pesanti un po strascicati e mentre Jonas inchiodato davanti all'armadio si chiedeva se lo sconosciuto sarebbe salito dal basso e che giò la voce ruvida del suocero gina ci sei chissà perché Jonas fu preso dal panico come se fosse stato colto in fallo senza richiudere la cassetta d'acciaio accostò le ante dell'armadio incerto se scendere o lasciar credere che in casa non ci fosse nessuno giù al pian terreno un piede si posò sul primo gradino la voce ripete gina soltanto allora Jonas balbettò arrivo prima di uscire dalla camera vide di sfuggite il suo viso riflesso nello specchio e si accorse di essere paonazzo a quell'ora palestri non era ancora ubriaco neanche la sera in realtà arrivava mai al punto di barcollare di primo mattino aveva gli occhi un po arrossati un'espressione imbambolata e depressa ma dopo un paio di bicchieri di acquavite anzi di grappa che le buc faceva arrivare dall'italia apposta per lui appariva già più in forma non beveva solo grappa però ma tutto quello che gli offrivano che trovava negli altri bar in cui si fermava quando Jonas scese gli occhi del suocero erano solo un po più lucidi del normale e il colorito un po più acceso dove gina chiese palestri lanciando un'occhiata verso la cucina dove immaginava di trovarla il fatto che il genero arrivasse dal piano di sopra mentre il pian terreno era incustodito accresceva lo stupore dell'uomo che sembrava aspettare una spiegazione Jonas non aveva avuto il tempo di riflettere come poco prima da Fernand si sentiva colto alla sprovvista e dal momento che già una volta aveva parlato di Bourges gli parve meglio continuare a mentire pur non avendo commesso nulla di male provava il bisogno di giustificarsi palestri lo impressionava per la sua rozzezza e per il suo fisico imponente che si era mantenuto asciutto e nodoso è andata a Bourges balbettò sapeva di non essere convincente e i suoi occhi dietro le lenti spesse sembravano sfuggire lo sguardo dell'interlocutore a trovare la lutte così mi ha detto è passata a salutare la madre non lo so vigliacamente si diresse in cucina e come faceva sempre Gina prese la bottiglia di vino rosso dalla dispensa e la posò insieme a un bicchiere sulla tela cerata della tavola quando è partita in seguito Jonas si sarebbe chiesto perché da quel momento in poi aveva cominciato a comportarsi come se fosse colpevole si ricordò per esempio della valigia nell'armadio a muro se Gina si fosse recata dall'amica la sera precedente l'avrebbe portata con sé e quindi bisognava sostenere che era andata via quel giorno stesso stamattina rispose lui tese la mano verso il bicchiere che aveva riempito da sé ma sembrava esitare a bere come come diffidente con la corriera delle sette dieci non ce n'erano altre prima di quella delle undici e mezzo che non era ancora passata Jonas fu quindi costretto a dire di sì era un atteggiamento stupido si stava invischiando in una rete di menzogne che a loro volta ne implicava altre e dalle quali non sarebbe mai riuscito a districarsi alle sette di mattina il mercato era quasi deserto era allora morta tra la partenza dei fornitori e l'arrivo dei clienti la madre di Gina avrebbe di certo scorto la figlia che del resto sarebbe entrata in negozio per salutarla anche altri l'avrebbero notata ci sono strade in cui la gente vive come in compartimenti stagni e dove i vicini si conoscono appena Plastuvie Marche era diversa somigliava un po' a una caserma con tutte le porte aperte e ciascuno sapeva ora per ora quel che faceva la famiglia accanto perché Palestri osservava il genero con espressione sospettosa forse perché Jonas aveva tutta l'aria di mentire lui vuotò comunque il suo bicchiere d'unfiato e si asciugò la bocca con un gesto che gli era abituale simile a quello del macellaio non si decideva però ad andarsene continuava a guardarsi intorno e Jonas credeva di capire il motivo che spingeva il suocero ad aggrottare le sopracciglia c'era qualcosa di naturale quella mattina nell'atmosfera della casa era troppo in ordine non c'era nulla fuori posto mancava la solita sciatteria che Gina si lasciava dietro arrivederci borbottò infine Palestri avviandosi verso il negozio e aggiunse quasi parlando tra sé vado a dire a sua madre che è partita quando ritorna non lo so avrebbe fatto meglio Jonas a richiamarlo per raccontargli la verità e informarlo che la figlia se n'era andata portandosi via i francobolli più preziosi della sua collezione quelli che teneva giù nei cassetti della scrivania erano roba di poco conto pezzi comprati in serie oppure già passati al vaglio che scambiava o che vendeva ai ragazzini la cassetta di sicurezza invece conteneva fino al giorno prima una vera fortuna francobolli rari che aveva scovato grazie al suo fiuto e alla sua pazienza in oltre 25 anni il suo interesse per la filatelia risaliva infatti ai tempi del liceo un solo esemplare la perla della collezione un francobollo francese del 1849 che raffigurava la testa di cerere su fondo vermiglio valeva a prezzo di catalogo 600.000 franchi il francobollo di trinidad con le figie di lady mcleod era quotato 300.000 franchi e ne possedeva anche altri di valore come il portorico rosa da due pesetas con una sigla sovrastampata per la quale gli avevano offerto 305.000 franchi jonas non aveva mai calcolato il valore complessivo della sua collezione ma doveva montare ad almeno una decina di milioni la gente del vie marchè non immaginava una ricchezza simile lui non ne parlava con nessuno e non gli importava di passare per un dilettante fanatico però una sera che aveva dimenticato sulla scrivania un catalogo gina si era messa a sfogliarlo distrattamente che cosa significa doppia sovrastampa jonas gliel'aveva spiegato e bistrol colore bistro e oliva e due p due pesetas le abbreviazioni le incuriosivano come complicato aveva concluso sospirando stava per chiudere il catalogo quando gli aveva fatto un'ultima domanda e la cifra 4.000 in questa colonna il valore del francobollo vuoi dire che questo francobollo vale 4.000 franchi lui aveva sorriso proprio così tutte le cifre della colonna indicano il valore dei francobolli sì lei aveva ripreso a sfogliare il catalogo con maggiore interesse qua leggo 700.000 esistono francobolli da 700.000 franchi sì e tu ne hai questo non ce l'ho ma ne hai di altrettanto costosi non proprio comunque ne hai di molto costosi diciamo di abbastanza costosi è per questo che hai comprato una cassetta di sicurezza la conversazione si era svolta all'inverno precedente e jonas ricordava che fuori cadeva la neve e che sul davanzale della finestra si era formato un cuscinetto bianco la stufa ronzava nel bugigattolo dovevano essere le otto di sera beh allora allora che niente non l'avrei mai sospettato in place du vie marché milk era considerato benestante e sarebbe stato difficile risalire all'origine di quella voce forse dipendeva dal fatto che era rimasto a lungo celibe la gente è portata a immaginare che uno scapolo metta quattrini da parte inoltre prima di sposare gina jonas mangiava sempre al ristorante di pepito proprio all'inizio di route dopo la drogheria grimo marno che faceva angolo con la piazza con ogni probabilità per i commercianti del quartiere nelle cui botteghe c'era via vai di gente tutto il giorno jonas milk era più che altro un dilettante è mai possibile guadagnarsi a sufficienza da vivere comprando vendendo e dando in lettura libri vecchi e a volte capitava che per un'ora intera o anche due nel suo negozio non mettesse piede nemmeno un cliente quindi dato che milk non solo campava ma aveva anche una domestica per due ore al giorno e il sabato per tutta la mattina doveva senz'altro possedere un certo gruzzolo forse gina era rimasta delusa perché lui non aveva cambiato affatto tenore di vita dopo il matrimonio forse si aspettava qualcosa di diverso jonas non si era mai posto il problema e soltanto ora si accorgeva di aver vissuto senza preoccuparsi di ciò che avveniva intorno a lui se avesse guardato nel cassetto del bancone dove teneva il denaro in un grosso portafoglio ormai logoro i conti gli sarebbero tornati era quasi sicuro di no in passato gina aveva già sottratto piccole somme come fanno i bambini quando hanno voglia di comprarsi le caramelle all'inizio si accontentava di qualche centinaio di franchi che prendeva dalla scatola scomparti in cui erano riposti gli spiccioli in seguito si era arrischiata ad aprire il portafoglio e talvolta jonas si era accorto che mancava una banconota da mille franchi eppure le dava quattrini a sufficienza per le spese domestiche e non le aveva mai negato un vestito un capo di biancheria un paio di scarpe all'inizio magari gina l'aveva fatto per abitudine e jonas sospettava che fosse solita rubacchiare anche dalla cassa dei genitori quando viveva con loro solo che allora doveva essere più difficile perché angel nonostante la sua aria di donnone allegro il denaro lo teneva d'occhio con gina non ne aveva mai parlato ci aveva pensato su parecchio ed era giunto alla conclusione che quei soldi li prendeva per il fratello aveva cinque anni più di lui eppure c'era tra loro quell'affinità che in genere esiste tra gemelli a volte sembrava quasi che freddo fosse innamorato della sorella e che lei lo ricambiasse ovunque fossero bastava loro uno sguardo per capirsi e se gina si accigliava e il fratello ne soffriva come un amante era per questo che freddo non sopportava jonas il giorno del matrimonio era stato l'unico a non congratularsi con lui e se ne era andato nel bel mezzo del pranzo nuziale gina lo aveva rincorso i due avevano parlato a lungo sottovoce nel corridoio dell'hotel du commerce dove si svolgeva il banchetto quando lei era tornata vestita ancora di raso bianco si vedeva che aveva pianto e si era subito versata una coppa di champagne all'epoca freddo aveva soltanto 17 anni il loro matrimonio era avvenuto due settimane prima di quello di clement sanselle che era stata da migella d'onore rassegnato jonas apri il cassetto con la chiave prese il portafoglio e constatò contro ogni previsione che non mancava neanche una banconota c'era una spiegazione non ci aveva pensato la sera prima gina si era allontanata solo dopo cena e fino all'ultimo momento lui avrebbe potuto aprire il cassetto per i francobolli era diverso perché a volte lasciava trascorrere anche una settimana senza toccare la cassetta di sicurezza gli sfuggiva ancora qualche dettaglio ma erano dettagli materiali di scarsa importanza per esempio le chiavi lui le teneva sempre nella tasca dei calzoni attaccati a una catenella d'argento quando la moglie aveva potuto impadronersene a sua insaputa non di notte perché lui aveva il sonno più leggero di gina e tanto meno al mattino perché scendeva sempre per primo qualche volta è vero andava a prepararsi il caffè in pigiama e vestaglia per non svegliarla mercoledì non era successo ma due giorni addietro sì e da allora jonas non aveva più aperto la cassetta mi scusi a qualche libro sull'allevamento delle api era un ragazzo sui dodici anni entrato in quel momento parlava in tono deciso aveva il viso spruzzato di lentigini e i capelli ramati che fiammeggiavano al sole ha intenzione di allevare api ne ho trovato uno sciamme in un albero dell'orto e i miei genitori mi hanno dato il permesso di costruire un alveare purché lo faccia con i miei risparmi anche jonas aveva i capelli di un biondo tendente al rossiccio e le lentigini sul naso ma all'età del ragazzo portava già lenti spesse come quelle attuali a volte si era chiesto se la miopia non gli desse una visione diversa degli uomini delle cose l'argomento lo appassionava aveva letto al riguardo che le varie specie di animali vedono noi essere umani non come siamo in realtà ma come appariamo ai loro occhi e che alcuni ci percepiscono dieci volte più alti ed è per questo che si spaventano tanto quando ci avviciniamo non si verifica forse lo stesso fenomeno per un miope anche se la sua vista è in parte corretta dalle lenti senza occhiali l'universo era per jonas un'ombra più o meno luminosa nella quale fluttuavano forme così inconsistenti che non era sicuro di poterle toccare gli occhiali al contrario gli rivelavano i dettagli degli oggetti e dei volti come se li osservasse con la lente di ingrandimento o come se fossero incisi al bulino era per questo che viveva in una dimensione tutta sua erano le lenti senza le quali andava a tentoni a creare una barriera tra lui e il mondo esterno nello scaffale dei libri sugli animali finì per trovarne uno che trattava delle api e degli alveari che te ne pare di questo costa molto milk guardò il prezzo scritto a matita sul dorso 100 franchi me lo dà se gliene pago metà adesso e il resto la prossima settimana jonas non lo conosceva non era del quartiere era un ragazzo di campagna la cui madre doveva aver portato al mercato ortaggi o pollame puoi prenderlo grazie signore verrò senz'altro giovedì prossimo fuori sotto il sole della strada e all'ombra del mercato coperto la clientela era via via mutata di mattina presto c'erano in prevalenza popolane che facevano la spesa dopo aver lasciato i figli a scuola era anche l'ora in cui arrivavano i camioncini degli alberghi e dei ristoranti già verso le 9 ma ancor più verso le 10 le acquirenti erano meglio vestite e alle 11 alcune di loro si facevano accompagnare dalla domestica per reggere i pacchi la segatura nel canale di scolo a furia di essere calpestata aveva perso la sua tinta dorata per diventare una poltiglia scura in cui si mescolavano foglie avvizzite di porri di carote e teste di pesce gina non aveva portato con sé abiti di ricambio né biancheria e nemmeno un sopravito benché le notti fossero ancora fresche d'altra parte se avesse avuto l'intenzione di restare in città forse non si sarebbe arrischiata a sottrargli i francobolli più preziosi dopo le 7 di sera non c'erano più corriere per bourges né per altre destinazioni ma solo un treno alle 20 e 52 che consentiva la coincidenza per parigi e alle 21 e 40 l'accelerato per moulin il personale della stazione la conosceva ma jonas non aveva il coraggio di andare a chiedere informazioni era troppo tardi per due volte aveva parlato di bourges ormai era costretto ad attenersi a quella versione perché aveva agito così lui stesso non se lo spiegava non era stato per timore del ridicolo perché tutti non solo a place du vie marce ma anche nel resto della città sapevano che prima di sposarlo gina aveva avuto parecchi amanti né dovevano essere un segreto per nessuno le varie scappatelle che si era concessa dopo il matrimonio forse era stato per una sorta di pudore che aveva risposto prima le buche poi a palestri è andata bourges un pudore che nasceva dalla timidezza i suoi rapporti con gina non riguardavano nessuno e lui si riteneva l'ultimo ad avere il diritto di parlarne senza la sparizione dei francobolli jonas avrebbe atteso tutto il giorno e poi la notte nella speranza di vederla rientrare da un momento all'altro come una cagnetta stanca di correre la camera di sopra non era stata riordinata e la cassetta era ancora aperta jonas salì e rifece il letto con la stessa meticolosità di quando era scapolo e la domestica si assentava gina era entrata in quella casa proprio come domestica prima di lei jonas ne aveva un'altra la vecchia leonie che a 70 anni faceva ancora le sue otto o nove ore al giorno presso diversi clienti alla fine le si erano gonfiate le gambe negli ultimi tempi poteva malapena salire le scale e poiché i suoi figli che abitavano a parigi non intendevano occuparsene il dottor jovelin l'aveva ricoverata all'ospizio per un mese jonas era rimasto senza nessuno il che non gli dava troppo disturbo conosceva gina al pari degli altri perché la vedeva passare di tanto in tanto le vendeva un libro a quel tempo lei si mostrava provocante con jonas come con tutti gli uomini e lui arrossiva ogni volta che la giovane entrava nel suo negozio specialmente d'estate perché gli sembrava che si lasciasse dietro un po dell'odore delle sue ascelle non ha trovato ancora nessuno gli aveva chiesto le buco una mattina mentre prendeva il caffè nel piccolo bar jonas non aveva mai capito perché le buco e gli altri della piazza gli dessero del lei quando tra loro usavano pressoché tutti il tuo e il nome di battesimo non lo chiamavano neanche milk però come se non fosse il suo cognome e nemmeno signor milk ma quasi sempre signor jonas eppure abitava in quella piazza proprio accanto alla macelleria di ansel da quando aveva due anni ed era stato suo padre a rinnovare la pescheria alla mare che adesso era gestita dall'iscenu non poteva neppure dipendere dal fatto che diversamente dalla maggior parte dei suoi vicini non aveva frequentato la scuola comunale ma un istituto privato e poi il liceo già suo padre infatti era per tutti il signor costantin fernand gli aveva chiesto non ha trovato ancora nessuno lui aveva risposto di no e le buc si era asporto dal bancone dovrebbe fare quattro chiacchiere con angel tanto se ne era stupito che quasi ci fossero due angel aveva domandato la fruttivendola si ha qualche problema con gina non riesce a cavarne nulla credo che non le dispiacerebbe mandarla a lavorare fuori se servisse a farle mettere la testa a posto fino ad allora gina aveva più o meno dato una mano alla madre in bottega approfittando però di ogni occasione per allontanarsi non potrebbe parlargliene lei aveva proposto jonas gli sembrava inopportuno quasi indecente che lui scapolo chiedesse sia pure senza secondi fini a una donna come angel di affidargli la figlia per due o tre ore al giorno ne accenerò al padre anzi no è meglio che mi rivolga ad angel domani le darò una risposta il giorno dopo con grande sorpresa di jonas la risposta era stata affermativa o quasi e lui ne era rimasto un po spaventato angel riferì le buc aveva pronunciato queste precise parole di a questo jonas che andrò a trovarlo ed era andata un tardo pomeriggio in un'ora morta ci aveva tenuto a visitare la casa e aveva discusso la paga non vuole che gina le prepari anche il pranzo questo cambiava le sue abitudini e a lui dispiaceva non andar più alle 12 e mezzo nel piccolo ristorante di pepito dove aveva il suo portatovagliolo e la sua bottiglia d'acqua minerale cerchi di capirmi se mia figlia deve lavorare che almeno ne valga la pena è tempo che si impratichisca i fornelli e da noi a mezzogiorno c'è appena il tempo di mandar giù un po di salumio del formaggio all'inizio forse gina gli portava rancore per averla assunta sembrava che facesse tutto il possibile per rendersi insopportabile ed essere licenziata dopo una settimana lavorava da lui dalle nove del mattino all'una allora angela aveva deciso è ridicolo cucinare per una persona sola per due non costa di più tanto vale che gina pranzi da lei e lavì i piatti prima di andarsene la vita di jonas era cambiata di colpo ignorava molte cose perché non prestava orecchio ai pettegolezzi e forse anche perché nessuno si sbottonava in sua presenza i primi tempi non capiva come mai gina fosse sempre avvilita e per quale motivo tutto d'un tratto diventasse aggressiva per mettersi a piangere dopo un po mentre sbrigava le faccende all'epoca erano già passati tre mesi dall'arresto di marcel geno ma jonas dava appena un'occhiata ai giornali ne aveva sentito parlare dalle buc perché l'avvenimento aveva destato scalpore marcel geno figlio di una sarta che aveva come clienti quasi tutte le donne del mercato comprese le palestri era aiuto cuoco all'hotel denecossian il migliore e il più costoso della città jonas doveva averlo visto senza farci caso la fotografia che era apparsa sui quotidiani mostrava un giovane dalla fronte alta e l'espressione serie ma con una piega delle labbra poco rassicuranti a 21 anni finito il servizio militare in indocina era tornato ad abitare con la madre en route belfeu la strada accanto al ristorante di pepito come la maggior parte dei giovani della sua età possedeva una motocicletta una sera sulla strada di saint amand alcuni parigini a bordo di un'automobile di grossa cilindrata erano stati fermati da un motociclista che sembrava chiedere aiuto e che invece brandendo un'arma automatica le aveva derubati il ladro prima di allontanarsi aveva bucato tutti e quattro i pneumatici della macchina la targa della moto al momento della rapina era ricoperta di vernice nera come aveva fatto allora la polizia a risalire fino a marcel i giornali dovevano averlo spiegato ma jonas lo ignorava quando gina era entrata al suo servizio l'istruttoria era in corso e un mese dopo a montlusson avevano celebrato il processo fu le buca a informare il libraio come va gina fa del suo meglio è molto nervosa perché la settimana prossima processeranno marcel marcel chi quello della rapina a mano armata era il suo amante in effetti gina si assentò per qualche giorno e quando tornò al lavoro rimase a lungo senza aprir bocca da quel giorno erano trascorsi ormai quasi tre anni dodici mesi dopo che lei aveva messo piedi a casa sua come domestica jonas l'aveva sposata sorpreso di quanto gli stava accadendo lui aveva 38 anni gina 22 anche quando col caldo la ragazza gli gironzolava intorno quasi nuda sotto il vestito e lui ne respirava l'odore non si era mai permesso un gesto meno che corretto dalle buca avevano preso l'abitudine di chiedergli con un sorrisetto malizioso e allora gina lui rispondeva con candore sta bene alcuni gli indirizzavano persino una strizzatina d'occhio che jonas fingeva di non vedere altri lo guardavano con sospetto non gli sarebbe stato difficile tendendo l'orecchio a destra e a sinistra facendo qualche domanda scoprire i nomi di tutti gli amanti che gina aveva avuto da quando a 13 anni aveva cominciato a bazzicare gli uomini avrebbe anche potuto informarsi su quel che era successo tra lei e marcel sapeva che era stata interrogata parecchie volte dalla polizia durante l'istruttoria e che angel era stata citata dal giudice non era nel suo carattere a che sarebbe servito aveva sempre vissuto solo senza immaginare che un giorno avrebbe potuto vivere altrimenti gina gli teneva la casa peggio della vecchia leoni i suoi grembiuli quando si preoccupava di metterli non erano mai molto puliti e se in certi giorni le accadeva di lavorare cantando in altri aveva lo sguardo duro e la bocca sdegnosa spesso a metà mattina spariva col pretesto di una commissione da sbrigare nei dintorni e tornava dopo due ore senza neanche scusarsi forse jonas nonostante tutto non aveva più potuto fare a meno di vedersela per casa o c'era stata come sosteneva qualcuno una congiura per spingerlo al matrimonio un pomeriggio si era presentata angel con addosso lo stesso grembiule che portava tutto il giorno in negozio soltanto la domenica infatti si vestiva con cura scelta un po jonas era una delle poche persone che non chiamavano signor jonas del resto alla maggior parte dei clienti dava del tu giù le mani delle mie pere bella mia diceva la moglie del dottor matrou una delle signore più sofisticate della città quando vado da tuo marito non mi metto mica a toccare i suoi strumenti quel giorno angel si era diretta con fare autoritario verso la cucina e aveva preso posto su una sedia sono venuta a informarla che ho un'occasione per mia figlia il suo sguardo faceva l'inventario della stanza e di sicuro non le sfuggiva niente certi signori di parigi che si sono appena stabiliti qui il marito che è ingegnere è stato nominato vice direttore della fabbrica e cercano una domestica è un buon posto dove gina avrebbe vitto e alloggio ho promesso una risposta per dopodomani ci rifletta su jonas aveva vissuto 24 ore di panico pensando e ripensando la questione sotto tutti i punti di vista come scapolo non poteva tenere stabilmente una donna in casa tra l'altro nell'appartamento c'era una sola stanza da letto questo ancello sapeva perché allora era venuto a offrirgli una specie di prelazione ugualmente difficile gli era dare a gina un lavoro per l'intera giornata perché sarebbe rimasta ore e ore senza nulla da fare angel aveva preso in considerazione tutto ciò gina nel frattempo sembrava non essere al corrente di niente e si comportava come sempre ogni giorno pranzavano insieme in cucina l'uno di fronte all'altro lei con le spalle ai fornelli da dove prendeva di volta in volta le pentole senza bisogno di alzarsi gina sì vorrei domandarle una cosa che cosa mi promette di rispondere con sincerità mentre pronunciava queste parole la vedeva ancora in modo nitido ma un istante dopo i suoi occhi era diventata un fantasma perché ad un tratto gli si erano appannate le lenti non sono sempre sincera forse sì di solito mi rimproverano di esserlo fin troppo non io che cosa vuole chiedermi questa casa le piace gina si guardò intorno con un'espressione che gli parve di indifferenza intendo dire incalzò jonas se le piacerebbe viverci perché mi fa questa domanda perché sarei felice se accettasse accettare che cosa di diventare mia moglie se un complotto c'era stato gina doveva esserne all'oscuro perché esclamò con una risata nervosa vuole scherzare dico sul serio lei mi sposerebbe è la proposta che le faccio me lei ma lo sa che ragazza sono io credo di conoscerla quanto gli altri in tal caso ho un bel coraggio allora che risponde rispondo che è gentile da parte sua ma non posso accettare sulla tavola c'era una chiazza di sole ed era su quella più che sul viso di gina che jonas fissava lo sguardo perché così non vuole saperne di me non ho detto questo signor jonas lei è senz'altro un bravo uomo anzi è l'unico che non ha mai tentato di approfittare della situazione sa persino a zel che pure il padre di una mia amica mi ha trascinata nella rimessa in fondo al cortile quando non avevo neppure 15 anni potrei elencargli più o meno tutti uno per uno e rimarrebbe stupito all'inizio mi chiedevo quando ci avrebbe provato anche lei pensa di non poter essere felice qui la sua risposta fu di assoluta schiettezza se non altro sarei tranquilla è già qualcosa no certo ma se poi noi due non ci intendiamo meglio non parlarne più non sono il tipo di ragazza che può rendere felice un uomo come lei non è di me che mi importa di chi allora di lei era sincero mentre pronunciava quelle parole traboccava di tenerezza al punto che non osava muoversi per paura di lasciarsi sopraffare dall'emozione io felice aveva mormorato gina diciamo tranquilla come lei stessa ha messo poco fa gli aveva lanciato un'occhiata indagatrice è stata mia madre a suggerirglielo sapevo che era venuta a trovarla ma no mi ha solo informato che le era stato offerto un posto migliore mia madre ha sempre cercato di sbarazzarsi di me non vuole pensarci su a che servirebbe aspetti almeno domani per darmi una risposta definitiva va bene se proprio ci tiene quel giorno gina aveva rotto un piatto nel rigovernare le stoviglie e così come era poi accaduto a distanza di due anni se n'era andata dimenticandosi di lavare la padella verso le quattro del pomeriggio jonas aveva preso il solito caffè dalle bouc e fernand aveva osservato con attenzione è vera la voce che gira quale voce che si cos'era con gina chi glielo ha detto lui poco fa ha litigato con angel per questo perché le bouc aveva assunto un'aria imbarazzata non la pensano allo stesso modo lui è contrario abbastanza perché lui doveva aver spiegato le sue ragioni ma le bouc non stette a ripeterli non è mai facile capire che cosa gli frulla in testa disse in tono evasivo è arrabbiato minacciava di venire da lei a romperle il muso però alla fine farà quello che vuole sua moglie può gridare quanto gli pare in casa non conta niente e gina saprà meglio di me quello che le ha detto è il più duro da convincere sarà il fratello perché non so dico così per dire è un tipo strano quel ragazzo con idee tutte sue non gli piaccio secondo me all'infuori della sorella non gli piace nessuno gina è l'unica che riesce a impedirgli di fare sciocchezze un mese fa voleva ruolarsi per l'indocina lei si è opposta è ancora un bambino non sta bene da nessuna parte una volta lì si sentirebbe più infelice di qui un cliente stava entrando in libreria a pochi passi dal bar e jonas si avviò alla porta a presto buona fortuna aveva dormito male quella notte alle otto era arrivata gina e si era messa al lavoro senza dire una parola senza guardarlo jonas aveva atteso un lungo quarto d'ora prima di aprire bocca allora che cosa ha deciso davvero ci tiene sì non mi rinfacerà mai nulla glielo prometto lei aveva alzato le spalle se è così va bene la sorpresa fu tale da lasciarlo senza parole la fissava paralizzato senza osare avvicinarsi senza prenderle la mano e a maggior ragione non gli venne in mente di baciarla nel timore di malintesi insiste accetta di sposarmi gina aveva 16 anni meno di lui eppure lo guardò come se fosse un bambino con un sorriso sulle labbra e uno sguardo protettivo sì per nascondere l'emozione era salito in camera e prima di affacciarsi alla finestra si era fermato per qualche istante trasognato davanti allo specchio dell'armadio era maggio poco prima c'era stato un temporale ma il sole era tornato a splendere formando chiazze lucenti sulle ardesie bagnate della tettoia anche allora come quel giovedì di due anni dopo c'era mercato e jonas era andato a comprare delle fragole le prime della stagione una donna alta e robusta vestita di nero un grembiule azzurro intorno ai fianchi entrò in negozio con aria da padrona proiettandovi una lunga ombra era angèle le cui mani puzzavano sempre di porri è vero quel che mi ha detto lui che cos'è andata a fare a burge jonas era più basso di lei e molto meno forte balbettò non lo so ha preso la corriere del mattino e sì senza venire a salutarmi anche lei lo guardava con sospetto avete litigato voi due no rispondi da uomo perbacco che cosa c'è che non va niente angèle aveva preso a dargli del tu di sua iniziativa il giorno del fidanzamento ma lui non aveva mai voluto seguire il suo esempio niente niente gli fece il verso non sei neanche capace di tenere a bada tua moglie quando dovrebbe tornare e non me l'ha detto è il colmo sembrò che volesse annientarlo con lo sguardo con l'imponenza della sua mole poi gli voltò bruscamente le spalle uscì borbottando vecchia ciabatta e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.